Il contenuto dell'articolo Cos'è un cappotto grigio? Chi andrà bene? Stili e modelli popolari Materiale come indossare un cappotto grigio Calzature e accessori per Un cappotto grigio come indossare un cappotto grigio al ginocchio Tendenze di moda come scegliere prezzo Ci sono molti colori e sfumature universali, tra i quali vale la pena evidenziare il grigio. È universale, quindi si combina facilmente con quasi tutti i colori. Grazie alla tinta grigia, è possibile ammorbidire i colori vivaci e armonizzare i gruppi evocativi Il colore sembra particolarmente buono in rigorosi look aziendali Oggi è spesso usato nella formazione di archi liberi Quando acquisti capispalla, dovresti seguire alcuni consigli degli stilisti Quindi, puoi scegliere uno stile, una tonalità, una lunghezza del prodotto adatti Cos'è un cappotto grigio? Molti psicologi affermano che le cose grigie sono in grado di estinguere focolai di passione, agitazione, aggressività I prodotti aiutano ad alleviare la tensione nervosa, calmati Questo è uno dei motivi principali della popolarità del capospalla grigio Venduto sport, modelli classici, popolare taglio semplice, militare Ci sono stili, svasato dal petto, con l'olfatto, con maniche a tre quarti o pipistrello Raggiungendo il pavimento, corto con collitto Rialzato, con un cappuccio Il modello classico è uno dei più popolari Vestibilità aderente con l'aggiunta di un cinturino I cutturi essono alla ricerca di nuove varianti nell'esecuzione dei prodotti Cercando di batterli con diversi inserti, materiali, interessanti, finiture originali Gli stilisti affermano che il grigio è adatto a qualsiasi stile Ci sono molti sottotoni Grazie a questo, ogni donna può facilmente scegliere il giusto tono grigio Tra le tonalità si distinguono Colore dell'asfalto bagnato, carbonico, piccione, argento, acciaio, fumoso, grigio platino Quando crei un'immagine, tieni presente che il grigio è in grado di bilanciare una tonalità luminosa o ultraacida Quindi sentiti libero di sperimentare con la selezione delle cose Se vuoi creare rapidamente un look alla moda, prendi nota che il colore è perfetto con Colori pastello, rosa, azzurro, viola, crema, faccina triste, bianca nero in rosso, marrone giallo, arancia Chi andrà bene? Il grigio è una tonalità calma e neutra Usalo come base e come complemento di una vibrante combinazione di colori La tonalità cromatica può essere utilizzata da qualsiasi ragazza Indipendentemente dalle caratteristiche della figura, dal colore dei capelli, dal tipo di aspetto Se parliamo della scelta dei sottotoni, sappi che, l'ombra grigia scura profonda si adatta perfettamente alle brune con pelle chiara Il monsone o un'ombra grigia in polvere è raccomandato per le donne bionde Tieni presente che le cose troppo leggere possono rendere la pelle pallida Questi articoli guardaroba sono perfetti per le ragazze con la pelle scura I capelli castani e le donne con la pelle scura possono scegliere grafite Il colore grigio si adatta sia alle donne piene che snelle Le tonalità scure aiuteranno a nascondere la pienezza Acquista modelli larghi con cinture larghe Completa il look con borse alla Rinfusa Accessori compatti sono indesiderabili Stili e modelli popolari Ogni giorno i cuturie sviluppano modelli interessanti e originali Vale la pena evidenziare diversi stili notevoli Oltremare Sembra un paio di taglie più grandi delle cose standard del proprietario Per non sembrare ridicolo Considera un consiglio importante In nessun caso usa una combinazione di capispalla cropped Minigonna O leggings Scarpe con tacchi bassi Ricorda che devi abbinare capispalla cropped e gonne o abiti che sbirciano da sotto l'orlo Indossa capispalla lunghi e gonne corte Abiti midi Prodotti con cappuccio Una soluzione moderna e conveniente per l'autunno o l'inverno Le cose sono prodotte con bordo in pelliccia o orlo a contrasto Scegli abiti eleganti Scarpe col tacco alto Scarpe eleganti con plateau per loro Indossa pantaloncini di jeans Un maglione sottile, golf e oxford a tacco basso Abbigliamento con pelliccia La finitura originale può essere presente su polsini, cappuccio, tasche, collo Il mucchio è corto e lungo I modelli con maniche in pelle sembrano molto eleganti con jeans Pantaloni attillati, gonne, qualsiasi scarpa, eleganti stivaletti Scarpe da ginnastica, comode scarpe da ginnastica, stivali ruvidi Indossa modelli lunghi con qualsiasi capo guardaroba Per quanto riguarda le scarpe, è consigliabile scegliere gli stivali che raggiungono le caviglie Se vengono scelti stivali alti, dovrebbero essere su un tacco a spillo, tacco stabile o tacco a zeppa Completa il tuo look con pantaloni, jeans e stivali alla moda, mocassini, scarpe da ginnastica I prodotti corti si abbineranno a pantaloni di qualsiasi stile Gonne, abiti di colori neutri o luminosi Sono adatte tonalità rosse, gialle, verdi, nere o bianche Indossa stivali col tacco alto, per lo stile business, o scarpe da ginnastica, stile sportivo Sui tuoi piedi I prodotti a doppio petto, lo stile monopetto non è meno popolare oggi, contribuiranno a creare un'immagine aziendale Ci sono stili dritti e aderenti Le cose a coste sono classici che non sono passati di moda da molto tempo Sul materiale è presente una striscia con vessa sottile o larga fortemente sporgente Il prodotto con un odore sembra buono su ragazze piene e snelle, equilibra visivamente la figura, la rende più proporzionale Indossa scarpe classiche, stivaletti o stivali, scarpe da ginnastica o scarpe da ginnastica ai piedi Quando scegli un prodotto con perline, sembrerai originale e solenne L'arredamento può essere presente su maniche, collo e tasche Convenienza e facilità di abbigliamento sfoderato Indossalo in climi secchi e caldi Le cose adatte aiuteranno a creare un business o un'immagine femminile delicata I modelli con cerniere sono molto comodi da usare, facili da rimuovere e indossare In caso di forte vento all'esterno, la cosa ti proteggerà in modo affidabile dal freddo La cerniera sul prodotto può essere centrata, obliqua o laterale Per saperne di più un abitino nero è sempre di moda, nuovo per le donne con foto materiale Capispalla di una tonalità grigia si adatta al look urbano, austero, casual, romantico e delicato I prodotti sono realizzati con tweed Il tessuto è ottenuto dalla lana di pecora È costituito da fili multicolori, grazie ai quali acquisisce un'interessante struttura in rilievo Gli articoli in tweed trattengono bene il calore Quindi ti proteggono dal freddo in quasi tutte le condizioni atmosferiche L'abbigliamento è caratterizzato da elasticità, praticità, resistenza all'umidità Non è in grado di raggrinsirsi, non si sbiadisce al sole e non si consuma a lungo Tenere le cose lontano dalle tarme e lavarle a secco regolarmente Lana, è naturale, a volte vengono aggiunte in purità Warstead, geberdin, diagonale, crepe, parrucca, cashmere, tweed, bucle, lana fine, rating, drap velour, flacome, lana grezza, castoro, bici, e cotone, corda di velluto, fustagno Sono divisi, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato nella fabbricazione La cosa sarà pratica, durevole, ipoallergenica, confortevole e manterrà bene il calore Sulla base di queste caratteristiche, si consiglia di scegliere la lana per il periodo invernale Bucle è un tessuto ruvido che richiede un'attenta cura I capispalla realizzati con questo materiale non si raggrinziscono, differiscono per densità, elasticità, trattengono bene il calore e consentono alla pelle di respirare L'unico inconveniente del tessuto è la tendenza a sbuffare Maglieria, consigliata per l'uso in autunno o in primavera Il materiale non ha elevate caratteristiche termiche, ma è caratterizzato da morbidezza, elasticità, praticità d'uso, igiene, traspirabilità, igroscope Le maglie accentuano la silhouette femminile, rendendo le donne incredibilmente seducenti Come indossare un cappotto grigio Questo capospalla si adatta assolutamente a tutto Sentiti libero di combinarlo con oggetti luminosi e capi Guardaroba in tonalità neutre, taier, jeans casual, stivaletti con tacco, alto e scarpe con suola piatta Un cappotto drappeggiato grigio sembra sicuro con una gonna tubino nera Un tubino, scarpe classiche, pantaloni neri corti, stivaletti e una borsa da lavoro Indossa cappotti oversize, scarpe da ginnastica o scarpe da ginnastica con zeppa Pantaloni della tuta, una manica lunga o un maglione Calzature usa qualsiasi scarpa Sneaker Eccellente se c'è un tacco a zeppa Scarpe ruvide, decolté, ballerine, stivali alti, gomma, pelle, pelle scamosciata, stivaletti, stivaletti La gamma di prodotti è molto diversa Scarpe, stivali bianchi, bordeaux, blu nevi, prugna, viola, rossi sembrano armoniosi Vale la pena considerare le opzioni popolari per le scarpe, stivali, stivaletti o stivaletti Scegli le scarpe dello stesso stile del cappotto Spesso i prodotti sono combinati con modelli femminili aderenti a un mantello Sneakers Un look perfetto con capispalla dal taglio dritto Cappotti oversize Il risultato è un'immagine giovanile sportiva e attraente Accessori per un cappotto grigio Scegli gli accessori per creare un look elegante L'abbigliamento invernale superiore o semimagionale è completato da copricapo, berretti, cappelli lavorati a maglia, berretti, cappelli, guanti comodi, guanti, snudo o una sciarpa Diluisci l'immagine con una spettacolare borsetta, pochette, zaino elegante Scegli accessori o cose in contrasto per abbinare il tono e lo stile del cappotto Ad esempio, usa abiti con elementi in pelliccia Combina un cappello di pelliccia o un cappello elegante Un cappello lavorato a maglia in armonia con un cappotto militare Scegli cappelli per abbigliamento sportivo nello stesso stile Sharpa Scegli questo accessorio in base alle tue preferenze L'unica cosa che vale la pena considerare è in colore Smeraldo Nero Blu nevi Rosso Le stampe popolari sono una gabbia e una striscia I prodotti rosso-nero, grigio, bianco e verde bordeaux sono comuni Quando scegli uno snudo o una sciarpa per un cappotto grigio, tieni presente che è bello indossarlo con Rosso, i vestiti con tali accessori sembrano vantaggiosi L'immagine sarà luminosa e evidente, mentre si osserveranno moderazione Moderazione Marrone, beige, calcato, caffè, cioccolato Con tali sfumature creerai una cipolla rigorossa Questi toni sono raccomandati per l'uso da una donna d'affari Vino, bordeaux, lilla, lavanda Aggiungeranno all'immagine un tocco di lusso e raffinatezza o tenerezza Romanticismo Menta, blu, rosa, donano freschezza Rendono l'insieme arioso e tenero Giallo, arancione Aspetto armonioso, luminoso e in alcuni casi audace Per saperne di più Moher, cos'è, le proprietà del filato e l'uso nella maglieria e nella cura dei prodotti finiti Un berretto Il copricapo, come altri accessori È selezionato in base allo stile generale dell'immagine Prova a completare un cappotto grigio con uno stile classico in un cappello lavorato a maglia con ricami Il capospalla militare ha un bell'aspetto con un berretto, cappelliere Quando scegli un lussuoso cappotto grigio invernale, dai la preferenza ai cappelli in pelliccia naturale Il colore del copricapo può corrispondere al tono di capispalla o altri accessori, scarpe, borse, guanti Una borsa ci sono accessori classici luminosi e austeri Se la borsetta è luminosa, diventerà il focus principale dell'immagine Per quanto riguarda la forma dell'accessorio, dipende dallo stile del capospalla Considera diverse regole per la scelta di una borsa Per un look rigoroso, è adatta a una borsa da lavoro nera in vera pelle a forma geometrica A volte vuoi dare una svolta all'immagine, quindi si consiglia di scegliere borse laccate Diluisci le cipolle di tutti i giorni con accessori luminosi e di forma insolita È desiderabile che il loro colore sia in contrasto con il tono principale dell'abbigliamento Ad esempio, un cappotto grigio scuro Sembra buono con borse verde lampone, verde chiaro Un cappotto grigio chiaro con accessori blu, gialli, arancioni Se lo stile è sportivo, giovanile, preferisci borse alla rinfusa, zaini Indossa una clutch quando osi qualsiasi stile Palantine per la bassa stagione, si consiglia di utilizzare stole, grandi sharper e tangolari Ci sono sia prodotti semplici, sia stole con stampe Utilizzare gli accessori per occasioni speciali o nella vita di tutti i giorni Vale la pena dire alcune parole sulla scelta della rubata, per lo stile di strada È consuetudine utilizzare stole di tonalità di oro, argento, disposte in tre o quattro cerchi disuguali Completa la tua immagine aziendale con oro, cioccolato, blu scuro, stole bianche, accessori del colore del fogliame giovane Stole di seta olino sono appropriate in autunno Per l'inverno è adatto un palatino con frange o motivi interessanti Un accessorio in cashmere si scalda al freddo Una stola con rifiniture in pelliccia non solo trattiene il calore, ma crea anche un luco originale Fazzoletto Gli accessori sono combinati con qualsiasi stile di abbigliamento Sono indossati in primavera o in autunno, quando non c'è ancora un forte gelo Gli scialli sono realizzati in cotone, lino, seta, cashmere Una vasta tavolozza è in vendita Il principio della corrispondenza dei colori è lo stesso della sciarpa Ci sono sciarpi con ornamenti interessanti Stampe Quando li scegli, concentrati sulle tue preferenze e sullo stile di altre cose È auspicabile che la sciarpa si distingua Per questo, utilizzare prodotti di colori vivaci, con motivi iridescenti, all'avanguardia Stampe floreali, etniche, animali Come indossare un cappotto grigio al ginocchio I modelli possono avere lunghezze diverse Le opzioni classiche sono un mantello trapuntato, una giacca al ginocchio Completalo con pantaloni corti aderenti e jeans boyfriend Il top può essere realizzato in uno stile street, un dolce vita Una camicia, camicia in stile classico, t-shirt semplici, maniche, lunghe, maglioni, maglioni caldi e cardigan lo faranno Se vuoi enfatizzare la magrezza della tua figura, usa abiti corti o pantaloncini in pelle È preferibile che non sporgano da sotto il cappotto Tieni presente che se la parte inferiore si apre, la parte superiore dovrebbe essere chiusa Tendenze di moda Ogni fascinista deve sapere come creare correttamente combinazioni vincenti di cose Per creare un'immagine armoniosa, prendi nota delle principali raccomandazioni degli stilisti Il colore grigio accorcia visivamente la figura Quindi le donne di bassa statura dovrebbero indossare scarpe col tacco alto Per dare l'immagine dell'aristocrazia, scegli modelli di capispalla con collo in pelliccia Gli elementi decorativi dovrebbero avere un tono più scuro o più chiaro del prodotto stesso A volte i colletti sono marroni Indossa una gonna a tubino o un vestito aderente chiuso, stivali col tacco alto o stivaletti Se il colletto del capospalla è marrone, scegli una borsa dello stesso colore Per gli amanti dello stile sportivo, sono adatti modelli a taglio libero con inserti in pelle La lunghezza del prodotto può raggiungere il ginocchio o la vita I modelli sportivi sono indossati con jeans, pantaloni attillati, leggings e pantaloni di pelle Indossa stivaletti con tacco, sneakers con seppa e stivali piatti sui piedi Non dimenticare di ritirare uno zaino elegante o una borsa di grandi dimensioni Se preferisci i classici, scegli abiti eleganti, stivaletti con il tacco alto, una borsa da lavoro o una clutch Scegli una cintura in pelle per abbinare il colore della borsa Sentiti libero di indossare un modello ampio a mantella, pantaloni skinny o pantaloni con frecce Stivali piatti sopra il ginocchio Stivaletti con tacco spessi Per una riunione o una passeggiata Un cappotto largo sotto il ginocchio Jeans scuri Un maglione leggero Una clutch con un motivo luminoso Arco giovanile Un ampio cappotto grigio Un maglione dello stesso colore Collant neri Una gonna corta arancione Una clutch marrone Stivali neri Un voluminoso cappello lavorato a maglia Al lavoro Puoi sfoggiare un abito senape Completarlo con una cintura marrone e stivaletti neri Capispalla con maniche in pelle Si abbina bene con i jeans neri Un pullover bianco Un'altra combinazione efficace è un cappotto elegante con un minimo di dettagli decorativi Con una cerniera Un vestito a tubino nero Una clutch scura e stivaletti con tacco stabile Per saperne di più occhiali da sole di ottrici come scegliere Il colore grigio ha molti sottotoni Quindi è importante imparare a selezionarli in base al tipo di colore dell'aspetto Vale la pena chiarire alcune sfumature La presenza di capelli scuri e pelle chiara indica che il proprietario appartiene al tipo di colore invernale Quando scegli le cose Considera che dovrebbe avere una tonalità nobile e profonda Se decidi di acquistare un oggetto leggero, utilizza accessori espressivi e luminosi Il colore autunnale è capelli rossi o castani, un rossore sulle guance Il grigio puro lo farà Le persone con il tipo di colore estivo hanno un ombretto chiaro, tenue, capelli biondo scuro Scegli un colore asfalto bagnato, tonalità smorzata La primavera è caratterizzata da una pelle radiosa bianca, lentigini, un leggero rossore, occhi blu Sono adatti colori caldi, grigio chiaro, sfumature con il blu Vale la pena rinunciare al tono profondo Scopri le proporzioni della tua figura È importante sapere cosa nascondere e quali parti del corpo evidenziare Ci sono raccomandazioni separate per ogni tipo di figura Per un triangolo spalle strette e fianchi larghi Acquistare oggetti con ampi colletti Le persone a clessidra si adattano a qualsiasi modello Le persone piene a forma di mela dovrebbero scegliere modelli a forma di O Per una pera, le cose con cinghie, imbutti voluminosi sono adatti Una figura che assomiglia a un quadrato indica spesso la presenza di un peso in eccesso Quindi vale la pena scegliere le cose al Ginocchio La parte superiore può adattarsi leggermente La parte inferiore è ampia Svasata alla parte inferiore del modello sono rilevanti Modello negozio, mosca, prezzo, rubli Prodotto semilavorato in tessuto denso con chiusura Due bottoni, due tasche con valvole di Oggi, ora c'è un'offerta speciale Quindi il modello può essere ordinato per posta a buon mercato La consegna è gratuita Negozio online La moda, una vendita è organizzata durante le vacanze 2499 e prodotto semifinito di media densità con chiusura a bottone Due tasche, cintura in bc-bg, cupi-vip Ru 4350 cappotto semiaderente GFFR con cerniera e due tasche Cupi-vip Ru 6990 Modello di un taglio diretto su un fulmine S-GM grigio asta, prostater Ru 7260 soprabito oversize in lana pezzo con ampie tasche applicate HC 9661 Un modello di TM pompa con una membrana PAFT PRO Protegge dall'umidità e dal vento Una chiusura per bottoni da cucire Decorazioni Un punto a catenella Se la tua città è San Pietroburgo Acquista abiti in un salone specializzato TM pompa 11900R Modello anisia di taglio dritto di lana cotta Con aggiunta di tessuto giacca Con tasche e una cerniera di modress Per non acquistare il prodotto costoso Utilizzare l'offerta speciale dell'azienda Grande bellezza 12000p Sette disconti